Buongiorno a tutte su Scine, io sono Jessica, questo è il mio canale e bentornati in un nuovo video Allora, ok, sono sparita per un pochino, ho una faccia che veramente, scusate Ma sono bloccata a casa da un po' e quindi questo è il risultato Allora, come vi direte, c'hai 23 anni, ripigli Avete ragione, però me ne sono innamorata anch'io Allora, stando a casa, non avendo niente da fare, mi sono messa a guardare un sacco di video su Youtube Mi sono innamorata di ste cavolo di LOL, ragazzi, lo so, lo so 23 anni sono nati, mi piacciono le LOL, va bene Allora, quindi ho deciso di comprarne una e provare a vedere come sono anch'io dal vivo E tra tutte le serie che ormai ci sono, io ho scelto la Bling Series Perché sono quelle tutte più glitterate e quindi che mi piacciono di più Perché per me i glitter potrebbero stare veramente ovunque Tutto ho scelto questa qui Allora, volevo spacchettarla insieme a voi Ho detto, vorrei spacchettarla da sola, la spacchetto insieme a voi E ve la faccio anche vedere Allora, raga, io sono inchiappatissima in ste cose Non sono esperta come quei video che guardo io, no? A caso, quindi ora lo faremo a caso Allora, intanto è grande Cioè, ma è grande, ma è grande, ma è grande E raga, ma io me ne aspettavo più piccola sta pallina Cioè, vabbè Poi non faremo le professionali che avranno il piano di lavoro O tutto bianco, o tutto nero No, perché raga, lo sapete, io sono molto casareccia Quindi lo faremo così alla buona E niente, apriamo Allora, la prima merdina da levare, secondo me È lo scotch Che c'ha il pirullo Ecco, anche la difficoltà, guarda, con le unghie Sarà grande E lo piazziamo qua E c'è il pirulino Che non ho ben capito Non lo so, la bowl poi serve per tenere dentro la bambolina E portarla in giro Io non lo so, ragazzi, proprio Ok, qui c'è la prima cernierina Che andiamo ad aprire adesso Ragazzi, non ci credo che lo sto facendo L'ho visto fare nei video Fino adesso voglio farlo anch'io Allora, è veramente complicata Ho bisogno di un aiuto Cioè, ma l'interno le fanno per le bambine Non ci riesco io Ce l'ho fatta Allora Vabbè, facile Oh mio dio, raga Sono emozionatissima Allora Levando il primo strato C'è l'indizio Allora, io non ho capito sta cosa degli indizi Perché per dire, sto indizio Io l'ho visto in un sacco di video, no? Glow up C'è scritto qua E c'è appunto sta lampadina Con la freccetta in su E boh, mi sembra assurda Aver a me l'indizio in mano Lo facciamo qua bene Secondo strato Altra cernierina Perché di questa serie qua Non ne ho guardati tanto di video Perché volevo Un po' l'effetto sorpresa Di cosa mi sarebbe capitato, no? Che magari a furia di guardarne tante Poi riconoscevo Gli accessori Capivo subito chi era Ora io ne ho visto uno o due Speriamo che non sia quello che ho visto Perché se no non c'è gusto Allora Altro strato Troviamo gli adesivi Con le faccine Ah già Poi dovremmo metterla nell'acqua E vedere che colore cambia E lo appoggiamo qua Whisky non comincia a giocare con la carta Perché prendi botte Te lo dico Ultimo Guardate qua Grace Ultimo strato Direi Cioè raga veramente È proprio di handicappato Sono sto cavolo Sì Ok Ok Vediamo l'ultimo strato Mio dio raga Come sono emozionata Ok Ora rimane lo strato trasparente La pellicolina Che la trovo abbastanza inutile Da sto punto No Se potevate farmi le tavole direttamente No No Allora Perché veramente Ma voi Le bambine come fanno? Chiedono aiuto ai genitori Perché non è possibile A me non mi aiuta nessuno I gatti che cominciano a giocare con la carta Ed ecco qui la nostra ball No ball con una S sola Perché è una E andiamo Uuuuuhu Mio dio Mi è emozionatissimo Allora Questa la possiamo appoggiare qua Allora All'interno Troviamo la carta Con le istruzioni Con le istruzioni Che noi non ce ne facciamo niente Perché sappiamo come funziona La checklist Chissà che troveremo noi Allora Vediamo Ce n'è una rara E una ultra rara E tutte le altre sono favolose E basta Vediamo noi Chi troviamo E E bonci Allora Ok andiamo avanti Che cosa carina Se levo la cartina Dentro troviamo tutti i pacchettini Parlo a pezzi Perché se parlo mentre levo la carta Non capita Niente Tega Tutti questi pacchettini Allora Questa è la nostra lol Che teniamo per ultima Poi Abbiamo Uno Due Tre Quattro Cinque pacchettini Più la lol E ora andiamo ad aprirne uno per uno E' emozionatissimo Oh mio dio Allora Abbiamo trovato Oh mio dio Forse ho già capito chi è Abbiamo trovato Le scarpine raga Cioè ma guardate Cosa sono Una azzurra Una rosa Tutte glitterate Allora io ho detto Ne prendo uno La provo Mi sa che qua raga Ne comprerò altre Oh mio dio Andri Non cominciate Hanno un odore Molto plasticoso Però raga Sono Favolose E ne mettiamo qua Oh mio dio Non mi sembra vero Apriamo Il secondo Pacchettino Questi sono i gatti Che giocano E qui troviamo I suoi braccialetti Quindi ho capito Chi è ragazzi Ho capito Chi è Non ci credo Questa qua All'altro Ho visto il video Ieri sera Proprio Ho detto Guardate Altro pacchettino Non mi sembra vero Sì è lei È lei Lo sapevo Questo è il suo Fiocchetto Non ci credo Cioè ho visto lei Ho trovato lei Non riesco a crederci Qui ci sarà il vestitino Esatto Oh mio dio Oh mio dio Mi è caduto Dalla franina Guardate Che carino Ragazzi Sono tutti glitterini Qui sta proprio Non pateto Vediamo Non si vede Perché Oh mio dio Ragazzi Ma che cosa Non è questo vestitino Lo appoggiamo qua Ultimo Pacchettino Dove c'è il suo Biberon Azzurrino Con tutti I glitter Ops È andato sopra il gatto Cioè raga Ma che cosa Non è Tutto morbidoso Ne voglio Assolutamente Un'altra E ora Direi che come ultimo È rimasta la nostra LOL Che sappiamo già chi è Oh mio dio Oh mio dio Ragazzi Che cosa Non è Allora Intanto È tutta short Allora Mettiamo le dritte Le gambine Oh mio dio Raga Anche questa È tossica Ma è tossica Cavolo È stata in plastica Ma guardatela Ma guardatela Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio È bellissima Ora andremo a vestirla E ve la faccio Vedere completa Comunque alla fine Ho trovato Si chiama Pranksta Lei Non cambia colore Ma Fa le bollicine Poi andremo a vederla Nell'acqua Vedete Io ho trovato lei Oh mio dio Ok Ora E Ve la faccio vedere vestita Ok Allora Adesso andiamo a metterla Nell'acqua E vediamo Come fa le bollicine Ecco Lei fa le bolle In teoria Dalla bocca Aspettate che non vedo Ed ecco qui Il nostro lol È tutta vestita Allora Anusandola bene Effettivamente è plastica Ma è plastica Che mi ricorda Un po' gli amaretti Raga Cioè Quindi alla fine È un po' dolce Ho provato a farle stare Il biberon Raga Io non ci riesco Non so come facciate voi Cioè veramente Però è troppo Troppo Carina E ora Non lo so Raga Se ne prendo un'altra Non lo so Mi hanno preso di brucio Comunque Fatemi sapere Se vi piacciono Questi video Anche a voi Così ve ne faccio Altrimenti Me le prendo E me le apro da sola Fatemelo sapere nei commenti Oppure lasciando un like Al video Così capisco Se vi possono interessare Anche a voi Questo tipo di video Io e la mia lol Vi salutiamo E ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.